Sì, guarda il canale del Drago Freebooter, capisci, ma è illegale. Poi è stato anche ospite da Mare di SNX. È vero, prima ancora di RTL. E come descriveresti, Jody? Dovresti dare una paranomica del suo carattere. Allora, lui è estremamente issimissimo buono. Caspita, tu sei troppo buono, troppo, ma nel senso più basilare e positivo e genuino del termine. Fa anche delle infamate, eh? No, adesso ne parliamo. Eh, sei proprio una buona persona. Grazie Paola. E per questo, secondo me, a volte te la prendi anche nel di dietro immeritatamente. Stai provando a baciarmi? Ma che modo è poi? Un robot che si sposta, non lo so. Esatto. Non so, però. Scusa. E tu invece, Jody? Cosa ne pensi di Paola? Io penso che... Oltre che è una... Ti sta allontanando un sacco da te, eh? Non so se ne stai notando. Ma vai, ti faccio così schifo adesso. Eh, si, si, è proprio messa così. Ti dicono F, ok. Una bella beffa. Una beffa sta beffa. Una bella beffa. E ti seguo. Bomba comunque. Grazie del support.